Tre anni fa, dopo aver ridetto il piccolo principe, mi sono detto che il piccolo principe va sui pianeti a incontrare diverse tipologie di persone e diversi pazzi. Noi siamo al bar e arrivano tutti i pazzi, senza che noi andiamo su altri pianeti. Arrivano da soli tutte le sede, mi arrivano quattro o cinque tipologie diverse di pazzi e a quel punto mi sono detto, sai che c'è? Fammi parlare con un psicologo scrittore, mi sono seduto con lui per tre giorni, sette ore al giorno e da là gli ho raccontato tutto quello che succede nel nostro mestiere e da là è venuto fuori a questo libro chiamato Il piccolo barman.